Più di un segnale di un addio quanto mai imminente. Per avere la percezione precisa del disimpegno di Enel riguardo alla produzione di energia attraverso il carbone, peraltro condotta su precise indicazioni di ordine politico, basta andare a vedere cosa è avvenuto negli ultimi mesi sulla banchina dedicata. Da dicembre ad oggi, al molo che si trova nello specchio acqueo antistante la centrale di Torre Valdalica Nord, è approdata una sola carboniera. Il mercantile ha scaricato circa 40.000 tonnellate di coke ed è poi salpato verso altri lini. Prima e dopo quella discarica, altri mercantili si erano presentati in rada, pronti ad attraccare per iniziare le operazioni, ma sono stati rispediti indietro. E oltretutto, da qui alla fine del mese non si prevedono altri arrivi. Anzi, a quanto pare, non c'è in previsione l'arrivo di Carboniere fino a maggio-giugno. Per avere un quadro più esauriente della situazione, basta, come sempre, dare uno sguardo indietro e leggere i numeri che, a differenza delle parole, dicono sempre la verità. Stante l'attuale situazione, il primo trimestre 2024 si guiderà con 40.000 tonnellate di carbone movimentate. Nel 2023 erano state oltre 733.000, mentre nel 2022 erano state 643.000. Insomma, il nulla o quasi rispetto al tanto. Il problema è che dietro a quel nulla o quasi c'è dell'altro. Ci sono le operazioni portuali svolte a tutti i livelli e da diverse imprese. Ci sono le manutenzioni che vengono fatte sporadicamente, visto che non servono a un impianto termoelettrico da mesi praticamente in stand-by. Ci sono soprattutto centinaia e centinaia di lavoratori che vedono nitidamente davanti ai loro occhi lo spettro della cassa integrazione. Nel frattempo di tutto si parla, ma nulla si muove. Non ci riferiamo solo ai possibili grandi progetti, come la creazione di un hub per l'eolico offshore, ma anche a ciò che sembrava praticamente consolidato. Ci riferiamo in particolare alla logistica. Due anni fa sembrava cosa fatta, quando addirittura la Regione Lazio benedisse l'accordo tra Enel Logistics e CFFT, la società che gestisce l'interporto, che aveva, ed ha tuttora, messo a disposizione un capannone per l'inizio delle attività. Si parlava allora di corsi di formazione per riqualificare i lavoratori di Minosse, la società che sovrintende da anni, alle operazioni di scarico del carbone a Torre Nord. Ma la logistica di Enel non è ancora decollata. E anzi, nell'ultimo incontro, svoltosi il 19 febbraio scorso al tavolo della stessa Regione, i rappresentanti della SPA Energetica hanno dichiarato di essere alla ricerca di un partner per poter aprire il negozio. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va. Era l'attacco di una bellissima canzone del cantatore francese Leo Ferré, ripresa poi dall'immenso Franco Battiato. Speriamo che almeno in questo caso non avessero ragione.